e bentornati ragazzi in questo nuovissimo video sono sempre io felix oggi nuovo metodo per guadagnare soldi online per creati qualcosa che ti possa fare entrare soldi in modo completamente gratuito come sempre senza investire nulla quello che dovrai investire sarà sempre il tuo tempo ragazzi perché alla fine devi lavorare se vuoi guadagnare quindi dovrai investire solamente il tuo tempo e oggi segui il video fino alla fine che ti faccio vedere questo nuovo metodo questa nuova strategia che ho portato già nel mio canale ma ve la voglio fare rivedere perché andremo a guadagnare con ben due metodi ma come sempre prima di proseguire con il video iscriviti al canale attiva la campanellina come vedi siamo più di 32 mila utenti iscritti grazie a tutti raga e mi raccomando lasciate un bel like al video per sostenere il canale di felix oggi andiamo a vedere come guadagnare soldi grazie a youtube e grazie al programma di affiliazione di amazon li andiamo praticamente collegati insieme non ti preoccupare il canale di youtube che dovrai creare sarà un canale dedicato solamente al mare alla musica rilassante i video che andiamo ad ottenere saranno completamente gratuiti perché li prendiamo direttamente online e li possiamo caricare poi sul nostro canale di youtube non solo i video ma anche la musica tutto senza copyright quindi segui il video fino alla fine se vuoi imparare a creati un canale dedicato solamente al mare e alla musica rilassante e andare poi a guadagnare grazie al programma di affiliazione di amazon mettendo il link di un prodotto sotto in descrizione del tuo video che parla del mare della musica rilassante e se le persone ovviamente vanno a acquistare il tuo prodotto premendo il link in descrizione tu riceverai una commissione quindi non perdiamo altro tempo andiamo su youtube andiamo sul motore di ricerca andiamo a scrivere si relax e andiamo a premere andiamo a ricercare questi tipo di video qua guardate qua ragazzi questi video quante visualizzazioni hanno 8 milioni di visualizzazioni 2 milioni di visualizzazioni solamente con dei video riguardanti il mare la natura che c'è vicino al mare e che c'è dentro al mare incredibile veramente un sacco di visualizzazioni tutti questi canali e tutti questi video hanno una sola cosa in comune in descrizione del loro video mettono il link di affiliazione di qualche prodotto di amazon che deve riguardare ovviamente sempre il relax quindi il tuo tipo di video il tuo tipo di prodotto che metti in descrizione devono praticamente combaciare quindi se io faccio un video riguardante la musica rilassante di due ore riguardante il mare riguardante la meditazione che cosa devo fare vado al programma di affiliazione di amazon mi vado a registrare completamente gratuito una volta che mi sono registrato avrò anche il mio grafico qua personale dove vado a vedere le persone che hanno cliccato e dove vado a vedere i guadagni che sono andato a fare andando a pubblicizzare i prodotti un esempio di prodotto che puoi andare a pubblicizzare all'interno del tuo video che parla della musica rilassante e quindi mettere un link di affiliazione di un prodotto il prodotto può essere un diffusore il classico diffusore di oli essenziali diffusione di aromi con modalità del sonno umidificatore questo qui ovviamente è il prodotto giusto da mettere in descrizione del video se ti sei registrato al programma di affiliazione di amazon vai a scegliere un prodotto riguardante la tua categoria di video una volta che ti sei registrato al programma di affiliazione di amazon e vai a scegliere il prodotto come vedete diffusore di oli essenziali diffusore di aromi con modalità del sonno quindi non solo le persone vanno a vedere i tuoi video riguardanti la meditazione riguardante il mare il relax ma vanno in descrizione cosa vai a cercare un prodotto che li aiuti poi a dormire quindi vanno a scegliere il tuo prodotto tu cosa devi fare per mettere il link di affiliazione del prodotto se ti sei registrato al programma di affiliazione di amazon vai in alto dove c'è il site stripe e vai a premere su testo questo qui sarà il tuo link personale da mettere in descrizione del video del tuo canale di youtube quindi vai a copiare lo incolli in descrizione del video descrivendo il prodotto se la persona va a premere questo link e va a acquistare il prodotto tu ricevi dei soldi tutti i soldi che vai a guadagnare vanno all'interno del programma di affiliazione di amazon puoi prelevare i soldi tramite bonifico bancario oppure tramite buoni regalo come sto facendo io io i soldi che vado a guadagnare su amazon li vado a convertire in buoni regalo di amazon per acquistare ovviamente l'attrezzatura per youtube o per acquistare tutto quello che voglio tutto in modo completamente gratuito come facciamo noi ragazzi adesso a creare questo tipo di video qua è veramente semplice i video come vi ho detto già esistono online sono senza copyright ed esiste anche la musica senza il copyright grazie proprio a youtube in modo veramente semplice riusciremo a crearci un canale riguardante solamente il mare e la musica rilassante solo su questo deve riguardare il nostro canale solo su questa categoria quindi cosa basterà fare andiamo su google andiamo a scrivere pexels pexels.com ci premiamo sopra e come vedete il primo sito che ci compare è il free stock pexels ci premiamo sopra questo qua è un sito che ha praticamente foto video completamente gratuiti e senza il copyright nel motore di ricerca andiamo a scrivere la categoria di video di foto che vogliamo ricercare quindi andiamo a scrivere mare si andiamo a scrivere in inglese come vedete qua ci sono le foto ok che possiamo scaricare gratuitamente e qua ci sono i video guardate qua quanti video ci sono da poter scaricare e ricaricare sul nostro canale di youtube adesso vi faccio vedere come creare un video in veramente pochi minuti ragazzi una volta che avete scaricato i vostri video facciamo per esempio questo video qua download gratuito in alto nella destra ripeto tutti questi video qua sono completamente gratuiti ad a uso gratuito andiamo a premere su download gratuito qua prendiamo sulla x e automaticamente ci va a scaricare in mp4 il video una volta che abbiamo scaricato tutti i video riguardanti il mare riguardante la natura ritorniamo un attimo su google e andiamo a scrivere youtube audio library andiamo a premere su youtube music library tutte queste canzoni tutta questa musica e senza il copyright quindi che tipo di musica dobbiamo ricercare visto che la nostra musica deve essere rilassante la persona che guarda il video sul mare sulle onde deve rilassarsi quindi sottofondo musicale della musica rilassante quindi una volta arrivati qua nella raccolta audio di youtube con musica senza copyright andiamo su stato d'animo e andiamo su calmo come vedete tutta questa musica qua è completamente gratuita le possiamo scaricare andiamo a sentire questa canzone puoi utilizzare liberamente questo brano e monetizzare i tuoi video e come sentite musica rilassante musica rilassante da mettere sotto i video quindi possiamo scaricare la musica dalla raccolta audio di youtube e possiamo monetizzare i nostri video quindi questo qua sarà il secondo guadagno perché il primo guadagno è quello del programma di affiliazione perché dico che quello di youtube è il secondo guadagno perché per guadagnare con youtube e attivare la monetizzazione devi avere 1000 iscritti e 4000 ore di visualizzazione dei tuoi video ma visto che in descrizione del nostro video andremo a mettere il link di affiliazione di amazon quindi di qualsiasi prodotto possiamo guadagnare prima della monetizzazione di youtube quindi guadagnare una percentuale dei prodotti che andiamo a vendere in automatico poi una volta che hai scaricato i video una volta che hai scaricato la musica tutto senza copyright ritorniamo su google e andiamo a scrivere campwing.com il sito è campwing.com e questo qua ragazzi è completamente gratuito ed è un programma online senza scaricarlo andremo ad aggiungere i video uno dietro l'altro e possiamo mettere come sottofondo ovviamente la musica quindi andiamo a premere su inizio a modificare potete fare poi tutto quello che volete raga questo qua è solo un esempio se volete potete utilizzare campwing potete utilizzare poi tutti gli altri programmi editor online gratuiti da scaricare nel pc però per iniziare con campwing quindi programma editor online andiamo a premere su inizio con una tela bianca qua nella destra visto che i video di youtube supporta il 16 noni andiamo a premere su 16 noni e adesso andiamo a caricare i video andiamo in alto a sinistra su caricare andiamo su fai clic per caricare e andiamo a caricare un solo video intanto una volta che avete caricato il vostro primo video andiamo a sinistra a premere su aggiungi quindi tela bianca e andiamo a caricare un altro video e così via ok secondo video caricato aggiungi un altro video caricare guardate come semplice in automatico campwing farà partire poi tutti questi video e qui ragazzi come vedete ci sono tutti i video guardate come sono belli questi video però non hanno mica l'audio e adesso dobbiamo andare a caricare il file audio la nostra musica rilassante sotto questi video qua come vedete come vedete primo video secondo video terzo video lo possiamo modificare ok andiamo a coprire tutta la tela bianca così 4 video e il quinto video adesso andiamo a caricare il file musicale quindi cosa dobbiamo fare andiamo in alto dove c'è scritto audio qui ragazzi andiamo a premere su fai clic per caricare l'audio e andiamo a caricare praticamente l'audio che abbiamo scaricato da youtube in modo completamente gratuito e senza il copyright premiamo su fatto e adesso ci sarà l'audio sotto ai video grazie a tutti adesso ragazzi questo qui è solo un esempio una volta che avete caricato i video una volta che avete messo l'audio musicale sottofondo andate in alto nella destra premere su pubblicare camp wing andrà praticamente a elaborare il vostro video e ve lo farà scaricare in formato mp4 ma io consiglio a tutti ovviamente di utilizzare un programma di editor semplice dove andare a unire i video e dove mettere in sottofondo la musica una volta poi che hai creato il tuo video lo vai a caricare su youtube ovviamente il titolo deve essere musica rilassante mare musica rilassante oppure potete scrivere i titoli anche in inglese ma in descrizione del video ci deve essere il prodotto di affiliazione di amazon riguardante ovviamente sempre il relax come può essere poi un diffusore di olio essenziale diffusore di aromi con modalità del sonno se siete registrati al programma di affiliazione di amazon e qualcuno va ad acquistare il prodotto vi farà guadagnare una percentuale ebbene ragazzi per i video tutto avete appena visto un metodo per guadagnare soldi online in due metodi tutto in automatico perché poi quando andrete a caricare dei video saranno sempre online quindi le persone lo possono vedere tutte le ore e la possibilità con questo metodo di guadagnare ben due volte il primo metodo è quello di mettere in descrizione dei tuoi video un prodotto di affiliazione di amazon dove poi vai a ricevere una commissione se le persone vanno a comprare il prodotto e il secondo metodo per guadagnare è quello di arrivare alla monetizzazione con youtube ebbene ragazzi per i video è tutto mi raccomando iscrivetevi al canale attivate la campanellina se volete rimanere aggiornati su altri video per guadagnare soldi online ciao da felix